ciao a tutti sono serena de ferrari e interpreto viola ciao a tutti sono cash and wilson interpreto cubra ciao buongiorno a tutti mi chiamo ludovica coscione e il nome del mio personaggio è teresa polidori ciao a tutti sono maria sposito e il mio personaggio è rosarici ciao a tutti sono giovanna sannino e interpreto carmela buongiorno a tutti sono clara soccini e il mio personaggio giulia un nuovo personaggio ciao a tutti sono clodilde esposito nella serie sono silvia ciao a tutti sono serena codato e nella serie gemmo